Buona andata Aspetta Sto facendo un filmino Ok No Adesso torno su Poi spengo Sto facendo un filmino Per chi ha mai ascensori Buongiorno Buongiorno Aspetta Così poi mi esplode il filmino Giusto? Dai dai Quando gli hai il conto da pagare Mi fai foto Eh? Mi fai foto Eh adesso poi te la faccio Eh ma è troppo scura Vabbè scusate se la vedete un po' scura Ma è già nera di suo Ma il buio non è che si vede un cranchè Comunque è una Ferrari Eh ma è un po' scura E il buio non è che Comunque è il modello di questa Ferrari Eh? Boh Comunque Se la vedete bene Ditemi quale può essere Grazie Eccoci qua Questo è il mare d'Imperio Per le curve della Liguria Vieni Ma lasciala lui Eh vabbè no Un po' Un po' di strada Ed ecco di nuovo il mare Grazie a tutti Buona visione Grazie a tutti